Giubox, 90 secondi. Capuano, c'è un'offerta del Catania, importante il Cagliari pensa di toglierlo dal mercato e addirittura di riscattare il cartellino di Capuano, titolare anche lui ieri contro il Cesena, dal Pescara. Coppola, Manuel Coppola, domani firma per il Catania, contratto fino al 2017, attualmente in scadenza con il Cesena, quindi un centrocampista in più. Va avanti la trattativa per Bellomo, Chievo, Catania, in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda Maniero, il Pescara ha detto a Maniero, fai una conferenza stampa, dici tu che vuoi, devi dire tu che vuoi andare a Catania, noi ti liberiamo subito perché non ci prendiamo questa responsabilità, è possibile che Maniero parli nelle prossime 24 ore per liberarsi e dire addio alla Pescara. Di Roberto è vicino all'Entella, proprietà Varesi, in questo momento alla Provercelli. A proposito di Cagliari, ha praticamente concluso l'operazione Fiamozzi, difensore del Varese, operazione per giugno da un milione e mezzo e Fiamozzi resterebbe a Varese per tutta la stagione perché deve dare un contributo importante per la salvezza. Roberto Insigne è vicino al Catania, movimenti anche in Lega Pro, Fofanà è il nuovo attaccante del Grosseto, Rea piace al Pescara, Rebus Almeida a Cesena, perché sono arrivate tre offerte, una da Dubai e una dal Portogallo, non è detto che resti. Zero, Juubox finito.